ciao a tutti da raffaele benvenuti a questo nuovo video stasera sto per andare a vedere al cinema il re leone in live action devo dire che avrei voluto in questi giorni recuperare rivedendo nuovamente l'originale ma non ho avuto non ho avuto modo non sono riuscito a recuperarlo e quindi dovrò andare senza una memoria fresca di quella visione perché comunque è qualche anno che non lo rivedo quindi non lo ricordo benissimo soprattutto non tanto la storia ma quanto alcune scene come come sono rese e anche diciamo alcune alcune parti cantate alcune canzoni soprattutto mi interessava riguardare comunque il doppiaggio del dell'epoca perché una delle cose che più mi mi lasciano il dubbio nell'andare a vedere questo film e sono i doppiatori infatti avere simba da adulto doppiato da da mengoni marco mengoni che diciamo con tutto il rispetto per le sue capacità di cantante mi lasciano invece molti dubbi sulle sue capacità di attore anche se è solo diciamo come doppiatore quindi uno dei punti oscuri per me questo film è che voglio verificare appunto la resa del doppiaggio del nuovo del nuovo doppiaggio vediamo come come sono state rese le scenografie tutto quanto riguarda appunto il film in questo live action devo dire comunque che ne hanno fatti già 23 questo è il credo dopo dumbo ed aladdin è già il live action dei film di animazione disney mi hanno stufato non ho visto anche il trailer di mulan che uscirà penso entro fine anno e già non ne posso più cioè se devono farmi il live action di tutti i film di animazione disney che sono stati fatti io la pianto qui non vado a ne più nessuno a meno che di film particolarmente interessanti che mi stuzzicano particolarmente cioè non io che porto sempre avanti questa ormai crociata diciamo delle idee originali al cinema vedere questo questo scopiazzamento generale di di tutte le idee buone avute negli anni precedenti mi dà molto fastidio oltre che per primermi mi piace molto questo termine oltre che punto che lasciarmi molto perplesso su su le capacità degli sceneggiatori attuali ce ne sono una parte e produce diciamo anche cose buone e poi c'è chi invece si accontenta di continuare a produrre cose già viste non originali che diciamo l'unica cosa che era garantita è l'incasso voglio dire mettetevi in gioco portate rischiate con qualcosa di originale ma almeno non fateci mangiare sempre la stessa minestra che non ne possiamo più va bene dopo questo pippone che vi ho allegramente dato questa sera prima del film vi lascio al trailer e poi alla post recensione ciao a tutti la vita a volte è ingiusta non è vero piccolo amico mentre alcuni sono nati per banchettare altri trascorrono la vita nell'oscurità ai limusinari avanzi tutto ciò che vedi coesiste grazie a un delicato equilibrio mentre gli altri cercano ciò che possono prendere un vero re cerca ciò che può dare devi scappare simba e non tornare mai più devi prendere il tuo posto nel cerchio della vita ciao a tutti eccomi appena tornato dal cinema e devo dire che mi sono pentito ulteriormente di non essere riuscito a recuperare a rivedere in questi giorni l'originale del re leone perché sicuramente mi sarebbe tornato utile anche per fare questa post recensione e allora devo dire che per quello che ricordo il film praticamente è uguale identico al film d'animazione le scene molte scene sono praticamente identiche anche l'inizio con tutti gli animali che arrivano mi sembra mi è sembrato proprio di rivedere pari 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 le stesse scene quindi alla fine in un film del genere in cui vai semplicemente a riproporre in live action quello che era già stato fatto in animazione in cartone animato cosa vai a giudicare perché comunque la storia la sceneggiatura è quella quindi è difficile poi renderla cambiarla perché stai facendo una semplice trasposizione in live action è questo se il film originale è un buon film è un pregio se invece ha dei difetti il film originale ti riporti anche i difetti devo dire il re leone non ha grossi difetti quindi il portare la sceneggiatura pari pari in live action sicuramente un punto di forza che però limita il giudizio del film devo dire e quindi devo poi alla fine riportare la recensione a due aspetti all'aspetto degli effetti visivi e all'aspetto dell'interpretazione e devo dire qui ci sono secondo me principalmente le note dolenti però prima di tutto parlano un attimo degli effetti visivi perché onestamente trasponendo in live action un film fatto solo di animali alla fine non c'è neanche l'interpretazione dell'attore ma avremo solo il doppiaggio quindi dell'originale avremo ben poco e devo dire che con le tecniche di animazione che ormai ci sono le tecniche degli effetti speciali che ormai ci sono con l'alta definizione e tutto in alcuni momenti nel film sembra di vedere un documentario di superquarko del National Geographic cioè non sembra di stare a vedere un film ricordo tanti anni fa di aver visto una volta un docufilm in cui c'era era narrata la storia di un cane selvaggio lobo e mi è sembrato di riprendere quello quindi più che un film sembrava quasi un docufilm se non fosse che poi gli animali parlavano però non l'ho visto naturale come come cosa è sempre mi è sempre forzata soprattutto Simba da piccolo a volte neanche muoveva la bocca quindi questo aspetto qui proprio per la tipologia di film è un film che non si doveva trasporre in live action a mio avviso se poi vai anche a peggiorare l'aspetto del doppiaggio di chi va a mettere le voce personaggi diciamo il film perde nettamente il confronto con l'originale infatti sono andato un attimo a rivedermi i vari interpreti le varie voci sia italiane che originali del film del 1994 e quello di adesso e diciamo non c'è paragone per quanto in originale in questo film ci sono attori tipo Donald Glover che comunque sono attori abbastanza capaci devo dire però nell'originale avevamo attori come Matthew Broderick James Earl Jones, Jeremy Irons che diciamo con cui a mio avviso non possiamo fare paragoni se poi vediamo quelli italiani per come sono stati resi innanzitutto il difetto è che questa volta si è deciso di utilizzare probabilmente per un problema di costi a questo punto la stessa voce sia per la parte cantata che la parte recitata e quindi ci troviamo un Marco Mengoni che diciamo già magari per qualcuno non va neanche bene come parte cantata però sentirlo recitare in alcune parti è veramente 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 negativa cioè io sono rimasto abbastanza deluso da questo e anche la voce di Elisa non è delle migliori come poi interpretazione il canto va bene però nei dialoghi come attrice è assolutamente limitante diciamo come cosa e anche gli altri attori comunque gli altri voci non sono di grande spessore a mio avviso diciamo quello che realmente forse è un vero attore è Popolizio che interpreta Scarra infatti secondo me è il personaggio che viene viene reso meglio come come voce e anche come interpretazione mentre nel film originale del 94 in Italia abbiamo avuto voci come Federico Rossi che comunque è un bravissimo attore doppiatore abbiamo avuto voci come Tonino Accolla come Perla Liberatori cioè comunque attori di doppiatori soprattutto di un certo spessore e non presi dal mondo dello spettacolo diciamo così quindi ripeto sono rimasto molto deluso dal film speravo in una trasposizione una resa in live action migliore questo rafforza ulteriormente la mia teoria che i live action hanno già stancato e vanno aboliti ma purtroppo Disney credo porterà avanti questa sua direttiva di trasformare qualsiasi film di animazione degli ultimi anni in live action e quindi ce li dovremo sorbire tutti chissà sono decine di film secondo me saranno almeno 15-20 quindi siamo solo agli inizi sarà dura starci dietro il prossimo è Mulan speriamo che la resa sia migliore di questa già con il fatto che per alcuni ho sentito che comunque stanno provando a portarci alcune personalizzazioni da parte del regista della sceneggiatura rispetto all'originale lo vedo come cosa positiva che almeno non sarà un copia e incolla dell'originale però invece per questo film per il re leone purtroppo è stato fatto questo quindi alla fine il film attuale ha tutto da perdere rispetto al precedente perciò ripeto sono rimasto abbastanza deluso come voto comunque perché in questi casi il film è fatto anche dalla sceneggiatura dalla storia e da quello che racconto quindi non posso dare un voto totalmente negativo quindi comunque devo dare dare tre stelline sì la sufficienza per soprattutto per quello che si porta come bagaglio ereditato dall'originale per il resto invece il giudizio è negativo e appunto ho detto quello che che ne penso va bene questo è quanto se invece a voi è piaciuto o comunque volete dire la vostra lasciatelo nei commenti mettete un like iscrivetevi al canale ovviamente se volete potete seguirmi su instagram questo è quanto ci vediamo al prossimo video ciao